Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto la grande evoluzione degli aspirapolveri senza fili che hanno completamente sostituito le classiche aspirapolvere con cavo e che sono entrate in tutte le nostre case. Nel corso dell'ultimo anno però in questo 2023 c'è stata la corsa delle lavapavimenti, ne ho provate parecchie e vi ho portato la recensione qui sul canale. Nelle ultime settimane ho messo a dura prova la nuova Jimmy HV9, una lavapavimenti che è in grado di mixare una struttura costruttiva molto simile a quella di una lavapavimenti classica ma che riesce poi anche a lavare i pavimenti. L'ho utilizzata per alcune settimane e devo dire che ne sono rimasto molto soddisfatto, anzitutto all'interno della confezione abbiamo una dotazione di accessori completa che comprende uno scovolino per la pulizia, una base, il caricabatterie e poi tutti quelli che sono i componenti già montati e pronti per l'utilizzo. Ma parliamo della Jimmy HV9, la lavapavimenti ha un corpo motore costruito interamente in plastica di ottima qualità, è solida, ben costruita, resistente quindi per quanto riguarda i materiali scelti per la costruzione devo dire che ne sono rimasto soddisfatto e che Jimmy ha fatto un ottimo lavoro. A differenziare la Jimmy HV9 da quasi tutti i modelli attualmente in vendita sul mercato è la posizione del serbatoio dell'acqua pulita dove dobbiamo inserire l'acqua pulita calda possibilmente e un goccio di detergente non schiumoso. La quasi totalità dei modelli in commercio ha il serbatoio per l'acqua pulita posizionato nel corpo motore e questo ne aumenta notevolmente l'ingombro invece Jimmy intelligentemente ha posizionato il serbatoio per l'acqua pulita direttamente sopra il rullo. Ha un serbatoio semplice e veloce da smontare e altrettanto facile da riempire e che ha una capacità di 0,4 litri che è sufficiente per pulire case di medie dimensioni senza particolari problemi e senza dover fare un refill a metà ma come avete visto è davvero semplice e facile e veloce rimuoverlo. Questa scelta costruttiva è intelligente perché oltre a essere comoda ci permette di avere un corpo motore molto più sottile e in abbinata allo snodo che ci consente di arrivare a quasi 180 gradi ci permette di arrivare più agevolmente e più facilmente in zone difficili da raggiungere sotto i mobili sotto i sanitari sospesi e magari sotto aletti e divani. Quindi scelta sicuramente approvata e poi un altro elemento differenziante da cercarsi sempre sulla testa ed è l'ugello frontale che eroga l'acqua. Questo ugello spruzza l'acqua sul pavimento direttamente di fronte alla spazzola rotante e ci permette di vedere a vista d'occhio a colpo d'occhio quanta acqua stiamo andando ad utilizzare per lavare i pavimenti. Questa cosa sembra una stupidaggine ma invece è molto comoda perché abbiamo proprio l'impatto visivo di quanta acqua utilizziamo e ci permette di capire facilmente quanta ne stiamo utilizzando senza esagerare. Invece la quasi totalità delle lavapavimenti eroga l'acqua direttamente sul rullo rotante ed è un po' più difficile capire soprattutto nei primi giorni quanta acqua stiamo andando ad utilizzare per lavare i pavimenti. La testa è completata poi al suo interno da un rullo in setole morbide che ruotando ad alta velocità ha il compito di andare a pulire i pavimenti di casa nostra. Per quanto riguarda gli altri aspetti costruttivi non c'è moltissimo da dire qui frontalmente c'è uno schermo lcd a colori che ci indica lo stato di carica residua e la modalità di funzionamento una batteria removibile che quindi può anche essere facilmente sostituita. Poi sull'impugnatura un po' spartana a dire la verità troviamo tre pulsanti uno per l'erogazione dell'acqua frontale uno per l'accensione e lo spegnimento e poi il terzo tasto che è quello dedicato al cambio di modalità. Abbiamo semplicemente due modalità una modalità standard lavapavimenti con un'autonomia di 30 minuti ed una modalità lavapavimenti con un'autonomia di 20 minuti che però va combinata alla chiusura di questa plancia frontale che permette di avere una migliore potenza di aspirazione e di concentrazione quando andiamo appunto a lavare o ad aspirare i nostri tappeti a pelo corto. Per quanto riguarda la mia esperienza di utilizzo io l'ho utilizzata per un paio di settimane sia per le pulizie quotidiane che per le pulizie più profonde del weekend. In ogni caso sono rimasto molto soddisfatto perché la potenza di aspirazione e la qualità della pulizia è davvero ottima. Con una sola passata si riesce ad aspirare, lavare e parzialmente anche ad asciugare raccogliendo l'acqua la quasi totalità dei tipi di sporco. Quindi anche se avete dei liquidi, dei detriti più pesanti, anche dello sporco incrostato la GMI HV9 riesce a pulire e lavare con molta efficacia e devo dire che ne sono rimasto molto molto contento soprattutto in relazione al prezzo di vendita di cui parliamo fra poco. Quindi la qualità della pulizia e del lavaggio dei pavimenti è assolutamente soddisfacente con l'unica limitazione del fatto che la spazzola ha dei bordi laterali di un paio di centimetri che non ci permettono di arrivare vicino al battiscopa. Quindi rimane sempre una piccola porzione di pavimento non pulita che però possiamo decidere di pulire utilizzando la spazzola frontalmente. Non un gran problema quindi. Una volta che abbiamo completato le nostre operazioni di pulizia ci basta semplicemente riposizionare la lavapavimenti sulla nostra base ed andare ad attivare la funzione di autopulizia. Funzione di autopulizia molto semplice, prevede l'erogazione dell'acqua direttamente dall'ugello, il panno va a ruotare velocemente per circa un paio di minuti e si completa quindi la pulizia. Tutto lo sporco viene depositato nel serbatoio, il serbatoio che ha un filtro EPA nella parte in alto, poi un filtro a maglie strette che raccoglie polvere sporco e detriti più pesanti e poi la parte finale con una capacità di 0,4 litri che raccoglie l'acqua sporca. Questo una volta che abbiamo finito di lavare tutto quanto lo mettiamo tranquillamente sotto l'acqua corrente, lo laviamo e lo rimontiamo. La parte di rimontaggio non è sicuramente eccellente perché il metodo di incastro mi ha convinto appieno però non è particolarmente problematico. Una volta che abbiamo finito tutto possiamo anche smontare e mettere qui ad asciugare i vari componenti nella nostra base di ricarica ed evitiamo anche quindi cattivi odori. Nel complesso quindi la GMI HV9 è una lavapavimenti di ottima qualità, devo dire che funziona bene, lava e aspira senza problemi, ci permette anche di asciugare i pavimenti grazie alla buona capacità di aspirazione, quindi pavimenti che rimangono solamente leggermente umidi dopo una passata e costa 299€ che è un prezzo sicuramente interessante e corretto visto la qualità offerta dal prodotto che è bello, solido e ben costruito, ci permette di lavare ed aspirare con una sola passata quindi è difficile chiedere di più. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, se è così vi chiedo la grande cortesia di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi sotto al nostro canale e se vi va magari attivate anche le campanelline per non perdere tutti i prossimi video. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per comprarla su Amazon dove probabilmente durante i primi giorni di Black Friday ci saranno sconti interessanti, il link per comprarla sul sito di GMI e la recensione testuale completa con tutti i dettagli tecnici. Da Vittorio Tiso per Casa i Tech è tutto, grazie e alla prossima!